Salve a tutte e benvenute e bentornate nel mio canale! Finalmente eccomi qua con un nuovo video! Spero che vi faccia piacere e soprattutto spero che vi piaccia questo video! Come state vedendo io sto opacizzando tutta la lamina ungueale perché in pratica su queste unghiette non c'è praticamente nulla quindi andremo ad effettuare una ricostruzione vado ad effettuare una ricostruzione con l'anel art che in questo periodo sta andando veramente tantissimo di moda è un'anel art un pochettino astratta con vari colori messi un pochettino a caso sull'unghia e vi ho pubblicato la foto su Instagram l'altro giorno e dato che vi è piaciuto ho deciso di girarvi appunto il video e finalmente eccomi qua che ve lo carico allora come vedete come vi ho detto stiamo opacizzando tutte le unghie in questo video ragazze ho deciso di non saltarvi alcun passaggio li ho solamente velocizzati e ho eliminato veramente pochissimi passaggi tipo magari quando sono uscita fuori camera però ho cercato veramente di lasciarvi tutto dopo aver opacizzato per bene l'unghia e aver spolverato tutta la polvere vado poi con questa puntina a pesciolino ad effettuare la mia dry manicure prima da un verso dalla parte centrale verso la parte interna della nostra cuticola e dopo aver finito questo laterale qui vado ad invertire i giri della mia fresa e vado dall'altro lato partendo sempre dalla parte centrale verso la parte opposta che abbiamo fatto fino ad ora finito vado a spolverare l'eccesso di polvere e comincio col tagliare le cuticole in eccesso mi raccomando per chi magari non è pratica con questo passaggio qui oppure magari vuole vedere come poter realizzare correttamente una dry manicure c'è il video sul mio canale appunto dedicato alla dry manicure lo trovate scorrendo qualche video precedente se riesco a trovare il link ve lo lascio dopo giù nell'info box e come vedete sto tagliando le cuticole come dicevo per chi non è pratica puoi tranquillamente soltanto spingerle un pochettino indietro io sto tagliando le cuticole con questa forbicina voi ovviamente come vi ci trovate di più se con la forbicina o con la tronchesina una volta finito vado ad applicare il nail prep vi ho messo le foto qui sopra ed era il nail prep di passione unghie dopodiché vado con il primer questo qui di B-Nail vi ho messo le foto sopra come state vedendo perché non sono riuscita a farvi vedere il prodotto in video dopo aver applicato il primer passo con la pati rubber che è una base sempre di B-Nail che mi piace tantissimo e mi ci trovo veramente molto bene io vado sempre prima con le quattro dita e poi dopo con i pollici a parte dopo aver mandato la base su tutte le dita 30 secondi in lampada comincio poi ad applicare le mie nail form per l'allungamento mi piace tantissimo e mi piace tantissimo dopodiché con l'acry gel pink di B-Nail che vedete sempre questo in foto comincio poi a ricrearmi il mio allungamento quindi cominciamo con la prima parte del nostro allungamento a presto a presto mando in lampada una mano per volta 15 secondi dopo 15 secondi vado ad inserire le pinzette come state vedendo e poi rimando di nuovo in lampada altri 30 secondi per far bloccare bene la pinzatura dopodiché andiamo a rimuovere le pinzette rimuovo anche la nail form e a questo punto continuo con la mia struttura mi sono dimenticata di dirvi che abbiamo deciso di realizzare questa forma ballerina mi sembra che fino ad ora non vi ho mai fatto un video con la forma ballerina non ricordo può darsi che magari ve l'ho fatto vedere in qualche altro video comunque per chi magari è interessata a questo tipo di forma ecco qui il video dedicato a voi a presto a presto a presto finita la struttura e dopo aver fatto ovviamente sempre prima le quattro dita e poi pollici a parte vado a sgrassare quindi a togliere lo stato dispersione che rilascia l'acrigel che però dell'acrigel veramente pochissimo e comincio prima ad aggiustarmi la forma delle mie unghie a controllarmi la lunghezza e dopo di che poi parto con tutto il procedimento di limatura partendo prima dai laterali poi nel giro cuticole e poi dopo ma giusto per bene tutta la struttura no 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 finito di limare vado a bafferizzare tutta l'unghia per eliminare i residui di limatura dopodiché con il cleaner vado a togliere per bene tutta la polvere e poi in un piattino sono andata a mettere una goccina di ogni colore che abbiamo scelto di utilizzare per ricreare questo lilla ho utilizzato il lilla di passione unghia e il 53 della linea rock off di binil poi il 53 della linea rock off di binil, l'azzurro ed il rosa il 42 della linea rock off di binil ed infine per dare un tocco di luce abbiamo scelto oro flash di passione unghie poi ovviamente l'anel art questa qui è astratta quindi io adesso vi lascio al video come vedete sono andata ad utilizzare un colore per volta e faccio dei piccoli pezzi per volta ragazze vado a disegnare delle piccole linee e mando in lampada a bloccarle in modo tale che il colore non si espanda sull'unghia nel frattempo che magari andiamo a fare un'altra linea su un altro dito oppure andiamo a fare più linee sempre sullo stesso dito quindi vi consiglio di fare pochi passaggi per volta e bloccarle in lampada tra un passaggio e un altro però A presto. 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 A presto.